per il secondo anno entriamo nella settimana santa con la pandemia approvati con una crisi economica più pesante nella messa delle palme il papa invita a chiedere la grazia dello stupore di fronte a cristo sulla croce che ci redime vince la morte toscana calabria vale d'aosta in rosso da domani martedì nel lazio in arancione si ritorna a scuola oggi quasi 20.000 contagi e 300 morti sale l'indice di positività polemiche sulle regioni che vogliono acquistare vaccini in autonomia tra due giorni potrebbe arrivare il via libera per l'assegno unico da luglio fino a 250 euro per ogni figlio un primo passo dice il ministro bonetti bene ma attenzione a non penalizzare le famiglie con la riorganizzazione degli assegni familiari e le detrazioni spiegano le associazioni 5.000 persone tutte con mascherina e con tampone antigenico negativo testate una ad una all'ingresso a barcellona è andato in scena il primo grande concerto al tempo del covid un modello che potrebbe aprire la strada a eventi simili buonasera e benvenuti alla tg 2000 se l'anno scorso eravamo più scioccati quest'anno siamo più provati così papa francesco oggi celebrando la domenica delle palme la seconda settimana santa che i fedeli si trovano a vivere nel mezzo della pandemia il servizio di nicola ferrante anche quest'anno messa delle palme in basilica per il papa niente folle in piazza a commemorare l'ingresso di gesù a gerusalemme solo una processione in forma breve verso l'altare della cattedra celebrazione con pochi fedeli e rigorose norme anti covid francesco non nasconde tutta la fatica di questo tempo ma la inquadra nell'orizzonte della fede siamo entrati nella settimana santa per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia l'anno scorso eravamo più scioccati quest'anno siamo più provati e la crisi economica è diventata pesante nell'omelia la riflessione su coloro che anche oggi ammirano gesù eppure la loro vita non cambia perché ammirare gesù non basta occorre seguirlo sulla sua via lasciarsi mettere in discussione da lui in un crescendo di interrogativi struggenti francesco si chiede perché non riusciamo più a lasciarci commuovere dal crocifisso se la fede perde lo stupore diventa sorda perché non sappiamo più stupirci davanti a lui perché forse perché la nostra fede è stata allocorata dall'abitudine all'inizio della grande settimana che conduce alla croce il pensiero di francesco va ai tanti scartati prega per le vittime dell'attentato di stamattina in indonesia davanti alla cattedrale di makassar e infine indica il centurione come icona dello stupore un pagano dice che trovò dio perché la grandezza della vita non sta nell'avere nell'affermarsi ma nello scoprirsi a matti questa è la grandezza della vita scoprirsi a matti ed ora l'andamento del contagio sale l'indice di positività domani nuovo confronto governo regioni sulla campagna vaccinale mentre altre tre regioni diventano rosse massimiliano nicoli toscana calabria e valle d'aosta si tingono di rosso da domani primi cambi di colore poi da martedì il lazio diventa arancione con le scuole fino alle medie aperte due giorni prima della sosta pasquale da sabato a lunedì dell'angelo poi italia blindata un vero e proprio lockdown in attesa della riapertura stavolta in tutto il paese anche nelle zone rosse degli istituti scolastici ma solo fino alla prima media la situazione resta preoccupante 19.611 nuovi casi con un tasso di positività che sale al 7,2 per cento 297 decessi decisive saranno le prossime due settimane per capire se a breve sarà possibile dare ulteriori concessioni tema sensibile tanto che oggi a milano centinaia di persone fra imprenditori ristoratori e commercianti hanno protestato per chiedere la riapertura delle proprie attività se è importante limitare il contagio altrettanto importante accelerare sulle vaccinazioni l'obiettivo ha detto oggi il vice ministro sileri è quello di raggiungere 500 mila vaccinazioni al giorno da metà aprile a tal proposito si moltiplicano gli hub vaccinali a campo sano nel napoletano si pensa in particolare ai soggetti fragili ai pazienti idealizzati mentre sono diverse le parrocchie che hanno dato la propria disponibilità a ospitare centri per la vaccinazione anche la diocesi di cesena sarsina ha dato la sua disponibilità alle autorità sanitarie e al comune di cesena e comuni del territorio per mettere a disposizione le sue strutture per la vaccinazione in atto in questo momento le autorità hanno risposto con un grande ringraziamento per questa manifestazione di interesse e verrà presa in considerazione nel caso in cui ce ne sarà bisogno resta tuttavia fondamentale il nodo legato alla penuria di vaccini il commissario figliuolo ha annunciato che in settimana arriveranno 3 milioni di dosi mentre fa discutere la decisione del presidente della regione campania vincenzo de luca di prenotare uno stock di vaccini sputnik arriva oggi lo stop del presidente della conferenza delle regioni stefano bonaccini nessuna regione dice può acquistare senza l'ok di ema l'agenzia europea per il farmaco come state vivendo ormai questo oltre un anno di lockdown di quarantena male naturalmente ma i più danneggiati sono i bambini e i ragazzi quindi cioè noi adulti ci dobbiamo adeguare ma loro no poveracci non riescono secondo me purtroppo ci siamo abituati ci siamo abituati l'anno scorso magari sembrava più una cosa urgente malattia nuova non si conosce niente quindi eravamo anche più preoccupati e impegnati nel quest'anno secondo me ci siamo un po tutti abituati cerchiamo comunque di rispettare tutti quanti le le regole le misure che c'è che ovviamente dobbiamo seguire però secondo me ci siamo quasi abituati a questo stato di perenne attenzione allerta diciamo che secondo me ormai la quarantena le persone coscienziose si sono abituate a a stare a stare insomma nel 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 giusto obbligo per per aiutare gli altri e se stessi non se ne può più di stare a casa e sì più che altro per loro per i bambini sì sì l'immunità di grege dal coronavirus dovrebbe conseguirsi in europa entro metà luglio è la previsione di Thierry Breton il commissario dell'unione europea al mercato interno e capo della task force sui vaccini parlando con un emittente radiofonica francese Breton ha mostrato il primo passaporto sanitario europeo il cui lancio è previsto per il 15 giugno sul documento un codice qr e il titolo di vaccino effettuato il tipo di vaccino effettuato scusate il documento potrà essere richiesto per prendere un aereo partecipare eventi o entrare in un luogo pubblico ma non sarà obbligatorio un segnale di attenzione lungamente atteso dalle famiglie sembrerebbe ormai sul punto di concretizzarsi l'assegno unico e universale per i figli è atteso per luglio ma restano ancora dei passi da compiere Pierluigi Vito ormai una misura lungamente attesa sembra essere vicina con l'approvazione definitiva prevista in settimana della legge delega mancheranno poi solo i decreti governativi e come annunciato dallo stesso Draghi a luglio arriverà il nuovo assegno unico e universale per i figli al posto di tutti gli attuali sostegni alle famiglie un solo benefit di che importo le ipotesi vanno da un minimo di 50 a un massimo di 250 euro al mese a seconda dell'isee del nucleo familiare per ogni figlio a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età ma si potrà arrivare fino ai 21 anni nel caso il neomaggiorenne sia iscritto all'università svolga un tirocinio il servizio civile frequenti un corso professionale o si è registrato come disoccupato incrementi all'assegno che sarà accumulabile con il reddito di cittadinanza sono previsti dal terzo figlio in su come pure per i figli portatori di disabilità noi sappiamo quanto le famiglie siano state penalizzate quindi l'importo dell'assegno deve essere calcolato anche in una via diciamo emergenziale in questo periodo a consolidare quegli strumenti di ripartenza di cui le famiglie necessitano ma noi sappiamo che non basta il sostegno economico servono servizi educativi servono sostegni alle spese educative che le famiglie svolgono e devono compiere sia per i bambini più piccoli pensiamo agli esili nido ma anche per tutto il corso di vita la riforma dei congedi parentali ormai non più rimandabile lo hanno dimostrato anche questi mesi quanto sia importante introdurre innanzitutto un sostegno alla genitorialità per tutti i lavoratori non solo per i lavoratori dipendenti e un importante investimento nel lavoro femminile nella possibilità di armonizzare l'esperienza della maternità all'interno della carriera professionale di una donna per l'assegno unico le risorse individuate dal governo ammontano 8 miliardi di euro fino al 2022 che potrebbero crescere coi fondi del next generation you manca un pezzetto manca l'ultimo miglio per questo stiamo chiedendo e chiederemo a tutte le forze politiche di aumentare nel bilancio la quota destinata all'assegno unico perché secondo i nostri calcoli e secondo l'ufficio parlamentare del bilancio manca ancora qualche risorsa per fare in modo che nessuno perda nessuna famiglia ci vada a perdere con la riorganizzazione degli assegni familiari e delle detrazioni il forum monitorerà su questo continua implacabile la repressione in Myanmar i militari sparano sulla folla al funerale di una delle vittime della sanguinosa giornata di ieri luigi ferraiolo non è bastato il sangue versato in Myanmar l'esercito aperto il fuoco contro la folla che partecipava a bago vicino yangon al funerale di una delle 114 persone uccise ieri definito il giorno della vergogna durante le proteste contro il colpo di stato militare al momento secondo il quotidiano inglese guardian non ci sarebbero vittime mentre cantavamo la canzone della rivoluzione le forze di sicurezza sono arrivate hanno sparato noi siamo scappati ha raccontato una donna due persone sono state invece uccise durante le proteste in altre località da questa mattina il paese è in stato di agitazione la rivolta si sta svolgendo in diverse città unanime la condanna della comunità internazionale che ha chiesto ad aggiunta militare di fermare il bagno di sangue all'angelus dominicale papa francesco ha rivolto un pensiero alle vittime della violenza in particolare a quelle dell'attentato kamikaze davanti alla chiesa di makassar in indonesia avvenuto poche ore prima ce ne parla marco burini jamah ansarut daulah i partigiani dell'isis sconfitto in siria ma che continua a ispirare odio e terrore in giro per il mondo secondo la polizia indonesiana è la filiale locale di questo network del terrorismo islamico a firmare l'attentato di stamattina la cattedrale del sacro cuore di makassar capitale di sulawesi una delle isole più grandi dell'enorme arcipelago due gli attentatori un ragazzo e una ragazza che sono arrivati in moto e si sono fatti esplodere quando era appena terminata la liturgia delle palme loro sono morti mentre tra i fedeli i feriti sono più di 20 ma se una guardia di sicurezza non li avesse bloccati all'ingresso sarebbe stata una strage come nel maggio di tre anni fa a surabaya sull'isola di java dove gli stessi miliziani islamisti avevano colpito tre chiese un commissariato di polizia 30 morti e decine di feriti poco dopo l'ideologo del gruppo era stato arrestato e condannato a morte ma evidentemente i predicatori d'odio fanno ancora proseliti e solo due mesi fa sono stati arrestati una ventina di sospetti appartenenti al movimento il terrorismo è un crimine contro l'umanità e non ha nulla a che fare con nessuna religione ha dichiarato gioco vidodo presidente dell'indonesia che è in gran parte musulmana 225 milioni di persone l'87 per cento della popolazione paese musulmano più grande al mondo ma in cui vivono molte minoranze religiose tra cui i cattolici 8 milioni 300 mila poco più del 3 per cento e adesso con la nostra corrispondente da gerusalemme alessandra buzzetti andiamo a vedere come è stata vissuta questa domenica delle palme in terra santa vediamo una processione festosa per la piccola comunità cristiana della città santa a gerusalemme dove la vita è tornata quasi alla normalità sventolano le palme sul monte degli olivi siamo contenti di essere usciti dal lockdown e di avere ripreso una vita quasi normale dice un in cristiana della città santa abbiamo pregato per la pace e perché dio ci dia una fede forte per rimanere in questa terra non ci sono pellegrini all'inizio di questa settimana santa gli stranieri in cammino sono lavoratori residenti siamo tutte badanti dice sorridendo questa donna filippina al ritmo di sassofoni tamburi procede il gruppo di religiosi africani sono ruandese salesiano e scendendo dal monte degli olivi il patriarca fa tappa qui nella chiesa del dominus flevit per benedire gerusalemme con le reliquie della croce l'anno scorso quando abbiamo benedetto con le reliquie della croce la città abbiamo voluto pensare la città tutto il mondo che aveva bisogno di un segno di consolazione anche il segno della redenzione perché la croce è il segno di redenzione oggi vogliamo ribadire questo gesto per ricordarci tutti che siamo già stati redenti e che abbiamo bisogno di crederci per cambiare questa mattina il patriarca ha celebrato coi fedeli la lunga liturgia nella basilica del santo sepolcro non c'è omelia nella domenica delle palmi ma un saluto al termine della processione alle porte di gerusalemme con un pensiero speciale ai cristiani palestinesi bloccati nei territori per la pandemia nei territori palestinesi la situazione è molto grave con contagi diffusi un po' avunque con le varie varianti gli ospedali pieni situazioni molto difficili e quindi è tutto chiuso e non si può fare nulla a proposito di covid singolare esperimento a barcellona un concerto dal vivo con 5 mila persone senza distanziamento sociale tutti i partecipanti sono stati prima sottoposti a un test antigenico fabio bolsetta immagini così non siamo più abituati a viverle cantare in migliaia sotto un palco con musica dal vivo in un evento pubblico da tutto esaurato un concerto con 5 mila persone a barcellona è riuscito il primo concerto live testato anti covid sì perché oltre all'obbligo di indossare la mascherina tutti i partecipanti sono stati sottoposti a test antigenico sono le 8 di sera abbiamo controllato 2400 persone afferma il dottor livr che ha diretto il team medico di supervisione tre di loro sono risultate positive con un contatto ulteriore in quattro sin adesso non potranno entrare ma con tutta questa operazione contiamo di trovare al massimo afferma nove positivi non di più la migliore sensazione è un invito a tornare ad uscire a consumare cultura ballare afferma uno spettatore che di professione è insegnante e superati i controlli il concerto può avere inizio una bolla dunque con 5000 persone alla fine le previsioni sono state superate soltanto sei i positivi scoperti l'esperimento può avere forse un seguito una nota verso la normalità dopo 40 giorni il missionario laico di palermo biaggio conte conclude il suo digiuno iniziato il 17 febbraio mercoledì delle ceneri il fondatore della missione di speranza e carità che ospita circa 400 persone in difficoltà nel giorno della domenica delle palme ha lasciato il sagrato della cattedrale dove ha trascorso l'intero periodo quaresimale di penitenza molto provato è stato aiutato dai volontari e si è trasferito in una delle sedi della comunità in una piccola stanteria dove pian piano riprenderà le forze per partecipare alla settimana santa assieme ai fratelli della missione e arriva dal parlamento la sollecitazione a riabilitare i militari giustiziati nella grande guerra per mano amica il senato spinge per un provvedimento risolutivo sono 750 soldati italiani uccisi con sentenze sommarie per futili motivi vincenzo grienti 1914 il mondo è dentro il baratro del primo conflitto mondiale migliaia di soldati sono in trincea sulle montagne per mare ma c'è chi muore per mano amica ucciso dai propri commilitoni chi ha dato l'alta? credo il nostro esploratore signor generale lo faccia fucilare uno di questi è il soldato giuseppe cerruto questo è il suo foglio matricolare trovato negli archivi da fabrizio corso saggista e esperto di storia militare un documento conservato presso l'archivio di stato di siracusa in cui si legge come il militare di fanteria venne passato per le armi a monte sprung in seguito a sentenza di corte marziale il 28 maggio 1916 cerruto è uno dei 750 militari italiani giustiziati ora si apre uno spiraglio di riabilitazione dopo la risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione difesa del senato finalmente dopo più di un secolo siamo riusciti a riabilitare la memoria dei nostri soldati condannati alla fucilazione da tribunali militari di guerra senza le necessarie garanzie in un clima di paura dove l'esempio da dare alle truppe era spesso la vera motivazione della contatta un traguardo questo ha auspicato nel 2015 anche dal presidente della repubblica traguardo che potrebbe essere raggiunto in vista del 4 novembre centenario della traslazione del milite ignoto nel saccello dell'altare della patria Juiz Hamilton ha vinto il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 in Bahrain il campione inglese della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen di 8 decimi al termine di un duello combattuto gara opaca per le Ferrari con Leclerc che chiude sesto e Sainz ottavo accese polemiche sui social per la partecipazione di Matteo Renzi come spettatore al Gran Premio ospite del Principe dell'Emirato i miei viaggi riguardano me non costano al contribuente la replica del senatore e con questo si chiude il telegiornale buon proseguimento di serata a tutti arrivederci grazie Grazie a tutti.